Un ecografo per la struttura complessa di oculistica dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, è l'obiettivo condiviso di una raccolta fondi dei club Lions Host Borgomanero e Borgomanero Cusio. Nel ricordo di Simon Luca Agazzone. Il progetto, che si concretizzerà con una raccolta fondi in una serata al Fenomenon a metà del mese di novembre, è stato reso noto durante un incontro tra i due club Lions nella serata di giovedì di... ...fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki.